Mi presento, sono Marco e sono candidato alla Camera dei Deputati. Ho 34 anni e se da bambino studiavo e lavoravo, dopo il diploma superiore ho lavorato e studiato. Mi sono laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, ma la mia esperienza più significativa sono stati sette anni in fabbrica dove ho capito la durezza della vita e la difficoltà delle persone a fare i turni di notte. Adesso c'è questa grande e straordinaria opportunità per il territorio che voglio condividere con tutti voi e voglio interpretare questa campagna elettorale come un alfiere che possa difendere e rappresentare le difficoltà dei bambini, delle donne, degli uomini, delle associazioni di tutto il territorio per poter portarlo al Parlamento italiano. In questo percorso voglio far tornare a brillare queste bellissime terre fatte di persone stupende per portare tutti noi alla vittoria e rinascere insieme.